Ecco, adesso forza! Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video io non sono nel mio canale ma sono nel canale di Giacomo che è un buon canale c'ha un milione e tre di visualizzazioni e allora si questa voce fuori campo è di Giorno Ron e quindi la mia voce seguitemi nel mio canale, grazie e probabilmente avrete già visto il video prima di questo e quindi tagliala però questa dopo tagliala e quindi avremo una qualità un po' più scarsetta però si può fare, comunque l'audio è buono questa canzone che si chiama Viva Gesù oggi è nato per noi Viva Gesù Viva Gesù Viva Gesù Oggi è nato Viva Gesù Viva Gesù Viva Gesù Oggi è nato Viva Gesù 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 Oggi è nato per noi Viva Gesù Viva Gesù Viva Gesù Viva Gesù Oggi è nato Viva Gesù Viva Gesù Viva Gesù Viva Gesù Oggi è nato per noi Viva Gesù Viva Gesù Osanna al Signore Al Figlio di Dio La gloria in eterno Viva Gesù Osanna al Signore Al Figlio di Dio La gloria in eterno Buona Epifania a tutti da Giorgio e Giacomo Lode Ciao Bravo